Sì? 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 Buongiorno signorina, finalmente sei sveglia. Dove sono? Ti ho legata perché voglio giocare con te. Sì? Giochiamo al gioco che se tu soffri, sopravvivrai. Se non soffri, morirai. Sì? Non mi è nuovo questo gioco. La vita stessa è sofferenza e credi di farmi paura? Sì? Piuttosto sei te che devi avere paura di me. Perché? Ti dico solo questo. Oh my God! Move Shinderu! Sì? 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 Sì?